Capitano che senti... tenore di... di... Orgoso... non si sente? Orgoso... di Orgoso, lei non sarà contenta di andare a marine? Ma sono loro che cantano o sono amici loro? Veramente dal cellulare lui che parla con la donna invece fa finta di ascoltare il tenore Eccoci qua Mattia, vabbè più vicino il viaggio rispetto alla Calabria, più o meno, la strada è più buona E che cellulare c'hai? Fa vedere? Samsung Tutti i Samsung ce la vedono E tanto, non tu? Cosa state combinando? Silvio, come al solito, ci ha fatto partire con tre ore di ritardo, complimenti e a sonare sveglia sia Il nostro Mauro, allora ma... quanti viaggi hai fatto in media al mese con l'Oranit? Mauro! Eh? Un bel po' Diciamo tre ogni fine settimana Da Tortolì ad Arzachena, com'era il cibo a Tortolì? Ottimo Ottimo, cosa avete mangiato? Di tutto e di più Naturalmente avete mangiato fuori dal campo perché in campo le cartucce erano già finite No, no, per fortuna qualche giocatore ha mangiato fuori perché in campo non ha mangiato una cibo che ha sbagliato Qualche gol in meno del suo E Unida dov'è? Appunto Unida Dov'è Unida? Unida sarà... Ma il carnevale è finito Ottana? Sì, ma se deve recuperare Bene, bene C'è il mister, attenzione, che legge la nuova Sardegna, lei è un comunista, lo sa Un specchio è un comunista Perché legge la nuova Sardegna È così È così, è così Dica una cosa di sinistra Non faccia come D'Alema, eh Come ho detto D'Alema? No, che dice sempre cose che non sono di sinistra La politica la diciamo agli altri, no? Per esempio, lei può dire che è Maurizio Zicchi di sinistra, visto che gioca sulla fascia, vero Maurizio? Dorme, dorme, dorme Allora, non chiediamo il pronostico, chiediamo soltanto la formazione Formazione? Non è ancora decisa Quanti ballottaggi... Quanti ballottaggi ci sono? Tre ballottaggi Tre ballottaggi Tra cui uno del portiere mi risulta, vero? Il ballottaggio è Marco Gaias che ha dimostrato le sue capacità con la bicicletta Quindi vuole fare anche il portiere, no? Eh sì Ma dove sarà Marco Gaias? È andata la macchina Ah, è andata in un'altra macchina Invece c'è il nostro povero Reddu che come al solito fa tutte le interviste della squadra Dicci a quelli che mi fai di non rompere Di non rompere, insomma Allora abbiamo appena concluso il suo trasferimento all'Inter È d'accordo? Al posto di Materazzi Materazzi all'Orani e tu all'Inter Ecco, l'albanese Guarda che anche se ti vedono già c'è là il passaporto Tra l'altro le sue interviste coincidono con il momento Ma no, è Andrea Flouris Ma scusi, l'ha visto il suo gol con San Paolo? Lo so che è stato squalificato il campo, lo sa Permesso, permesso Il ligno col gel, attenzione Scusi cos'era in bagno? No, rompciamo le scale Allora, dica 33 34 No, devo dire 33 prima Perché 34? Dal medico si dice 33 o lei va dall'infermiere E cosa risponde l'infermiere? Quanto ne faccio oggi? Quanto io ne facciamo? Non lo so Ma ha bevuto? Cosa c'è? Niente Una lacrima di accavite come dicono Certo, per riscaldare la tronsolata Ci sono 65 gradi Poi ce ne vedono dopo Eh, esatto Qui cazzo che è un metro di mano? Domanda molto di bocca 50.000 Circa 50 Di curve, di curve però Eccolo qua invece Ne abbiamo confuso Andrea Flouris con l'albanese Attenzione, è una cosa gravissima Dove canne, radicchio Lacker, lacker Lacker, ascolti Ci dica, ma è ancora connesso Facebook? Buca anche adesso, no? No, brula E invece patto connesso, no? Eeeh Ma c'è tattato su Milano? C'è io perché c'è tattato Oh, ma Quanto non è andata su Milano Segnare cacchiretti Vedo che non mi c'è un bonus Cosimo, cosa dici tu? Nulga Com'è in te nulga? Lui è l'anonimo Come l'anonimo? Ma sei tu? Quello che mi ha messaggi anonimi, no? Eh, non è facile Non siamo più quelli No, no, ma cos'è capo? E' Diego invece Ma tutti i due niferi dovete essere su questa fila per forza Eh, beh Ma come nei pullman e l'anze No, no, no Ma lei ha parenti a uniferi, no? No, io su Bappo No, su Bappo E addirittura Oh, Andri Quando vedremo i due Flores in campo insieme? No, mezzo schinone Già viste Già viste qua In junior No, in allievi Facciamo giocare fuori quota Non se ne accorgono tanto qua Così, Armando Ma è vero che ha buttato giù uno della Torturica Che ha finito il campionato Mi hanno detto Eh L'ha battuto È entrato, l'ha battuto e si è uscito È vero? È vero? È contento? No, Valerio Gli alberi si abbattono sempre Valerio E tu? E quant'è ne si concao? È mezzo Vede? Quella è vera Ma non per giocare Oggi che l'abbiamo intenzione di fare Beh, bastiamo parlare di Olbia Io non so cosa ci sia Olbia, di così interessante Ma allora ho tornato da Kenas Derby No, no, tornando Derby Derby Tu, Olbia, conosci qualcuna, no? Conosci qualcuna, Olbia, no? Derby No, sei sicuro? No, Olbia Un paesino Un paesello sulle colline L'accendiamo Olbia E i fiammiferi ne hai? No Allora, busca Allora, buscate Allora, la benzina Devo svuotare Il servizio del studio Non basta come stai svuotando tutti i distributori di Coca-Cola della provincia No, basta Di cioccolati se mai volete E chi è rompendo? E' Emanuele Vabbè, furiroso Emanuele una settimana Ciao Quanti colapri hanno guardato? Bene, mi dice sì A ghilare Ciao Ciao Ciao